la sarda è malandrina e chi lo seguita la campa pureggia sbagliando sai di sera e mattina o me lo potete fare un cappotteggio? Io mi chiamo Orazio Aiello e sono il capitano della barca Nuovo Salvatore. Io mi sveglio la mattina ogni mattina verso le 4 e mi preparo la barchetta diciamo mettendo le attrezzature diciamo per andare a recuperare le reti. Siamo al porticciolo di Isola delle Femmine e questa è la mia barchetta quella che io mi guadagno da vivere campando la mia famiglia. I miei genitori erano pure pescatori. In questo periodo vado a pescare con la palamitara che è un tipo di rete galleggiante che pesca sia il pesce d'aria che il pesce di fondale che è un lavoro che facciamo sotto costa essendo che le leggi della comunità europea non ci permettono più di andare a pescare diciamo in alto mare. Non vuole che non si pescano i tonni. Ci vieta di pescarli perché non abbiamo per esempio la quota tonni che è una licenza che per esempio hanno soltanto alcuni tipo per errore che abbiamo fatto noi pescatori ingenui tipo che questa cosa sarebbe stata importante averle tutti per andarle a pescare questi pesci. Le cose più belle che ci ha regalato Gesù di vedere questi pesci che ancora si muovono sono tipo la ricchezza pure diciamo delle famiglie che lo mangiano il pesce che è una cosa naturale non è una cosa che compriamo e non sappiamo quello che mangiamo. Ai popoli del mondo io dico che io vivo in un paese meraviglioso. Il nostro pesce non è uguale a nessuno perché noi abbiamo dei fondali meravigliosi corallini che ci permettono di pescare tutte le migliori qualità dei pesci di mare. Grazie.